Saturimetro! Ultimamente se ne parla tanto! Ma cos'è? A che cosa serve? Il saturimetro non è altro che questa specie di pinzetta che viene messa sul dito. Da una parte è presente una luce infrarossi, mentre dall'altra un rilevatore. Mentre la luce infrarossi passa per i vari tessuti per raggiungere il rilevatore, questa viene assorbita dall'emoglobina ricca di ossigeno e da quella povera di ossigeno. La differenza tra questi due valori ci va a dare la quantità di ossigeno all'interno del sangue. Per altre curiosità, seguimi!